A te stai giù, tutto sto muovo Non credo più, tutto che mi trovo Mi sa come sei, cosa stai facendo? Mi credo nei miei dettagli al centro Praticamente dopo un mese che è uscito il disco abbiamo fatto praticamente la prima data a Milano che era sold out già dal mese prima è stato tutto annunciato molto velocemente la gente ha subito risposto bene quindi è stato una figata il discorso che abbiamo intrapreso live è stato continuare un po' quello che avevamo iniziato diciamo con il tour vecchio quindi cercare di rielaborare i pezzi sia nuovi ma soprattutto vecchi in una chiave più simile diciamo al suono del disco nuovo infatti c'è Alessandro che suona le tastiere e le chitarre e Marco che fa live programming con i pillolini io le ho viste un po' che c'è il giorno ma anche la nostra produzione non è la nostra produzione questa è l'ai corretto mentre la nostra produzione No, io sono abbastanza abituati, sia io che Nuna, già dallo scorso album, siamo abbastanza abituati a lavorare con lui. Io in particolare poi ho partecipato un po' più a quella che era la quadra generale del brano rispetto alla semplice produzione, nel senso che questo disco è stata per me una novità il fatto di produrre un pezzo, mentre invece abbiamo sempre lavorato insieme proprio a quello che è il mood generale, alle melodie, soprattutto a quella che è la parte di un'armonica musicale. Sta ridendo un po' l'altro. Grazie mille per essere qua stasera e adesso non ho mai nessuna altra parte. È una figata da potervi vedere e cantare le canzoni. Siete stupendi. Grazie mille.